Bella partire la partita di questo nuovissimo gameplay, oddio scusate se non mi sentite Allora, siamo su Black Ops 3, la versione beta, quindi prendetela un po' com'è oppure se il video non è perfetto, se è solo una pippa a giocare Se la partita è iniziata un po' così com'è Volevo farvi vedere un po' questo gioco, ecco Wow E niente, è uscita oggi la versione beta sul PC, è un po' una versione beta Poi la mia scheda grafica non lo supporta, e c'è la Killamish Poi ci sono questi strani agenzi tipo, eh, che attaccano e si cammina sui muri Oddio Allora, si cammina sui muri ragazzi Questo è il gioco di, di camminare, di parkour praticamente Nooo, mannaggia Ehm, vediamo, vediamo come si cammina sui muri Oddio Nooo, ok Sssssssssssss Vedi come faccio parkour Ehm, grandi Oddio, le avevo preso Allora Ragazzi, vuole Lui è morto ma non per merito mio Oddio, mi hanno maciullato La cosa più figa che ho visto finora, ragazzi, è che se ti sparano con lanciamissili, ti saltano le gambe Quanto so scarso, amici Eh, ok Perfetto, mi hanno fatto l'ultima kill, ragazzi Complimenti Bravo, bravo Gianmarco Mi è ucciso con l'arco Ma io l'ho fatto solo per farlo vedere a voi, ragazzi Ah Sono morto male Ok, sono arrivato ultimissimo 3.13 Ah, dovrei mettere il push to talk Perché penso che gli altri mi sentano Quindi andiamo al volo sulle opzioni Vi faccio vedere un po' l'interfaccia del gioco com'è Così, vedete, un po' tutto Ok, si è chiuso il gioco Non ci credo Ha Ehi E' il bello della diretta, ragazzi Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata Vediamo, questo è come si presenta il gioco Call of Duty Black Ops 3 The Activision Vediamo il multiplayer beta Come si presenta Ok Questo è il mio personaggetto Vediamo Creiamo una classe Che già avevamo creato Vediamo Io voglio questo Ah, cazzo Eh, ero salito di livello Ma mi sconnesse Una cosa strana E non l'ha salvato Questo è il bello delle beta Ok Direi di Find match Team that match Ok Iniziano subito le partite Bellissimo Cioè, nella beta Sta un sacco di gente Che gioca le partite Iniziano subito Yeah Vedete, ci stanno vari personaggi Che tu ti puoi scegliere Ogni personaggio C'ha tipo una Un po' diciamo Abilità Dopo le che ho capito Il mio Eh Aspettate, aspettate Devo cambiare le impostazioni Il FOV Mettiamolo a 90 Ok Ora È tutto un altro Discorso Se solo partissi il gioco Ok Ok Non sono morto Che già è una buona cosa Facciamo qualcosa No Ok 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 Ragazzi La mia scala grafica Non sopporta Sto gioco E andare in giro Correndo Non è che lo aiuta molto C'è qualcuno Uno qui Allora Chi va piano Passano E va lontano E muore Oh no Sei una migliorata E aperti No Mannaggia Allora raga Non ci capisco Una beata matta Su sto gioco Oh mio dio Mi hanno fulminato La vita Che arma è? Lo spara Ma dai Ma che è un taser Io amo i giochi Di armi Futuristici Ma c'era uno Si è sconnesso Mentre uccidevo Oh porca Troia State molto attenti Oh mio dio Oh mio dio No no Non finire di sotto Vaffanculo Ecco Se cadi muori Bella novità del gioco Allora Ecco Ma era un nemico Prima si è trasformato Ma era un nemico Perché ci sta uno Che ha scritto Oddio Porcone Hostile UAV Incoming Scriviamogli Bella Ok Sono diventato rosso Non ho idea Di cosa voglio dire Oh mio dio Oh mio dio Facciamo come i veri gamer Facciamo un urlo strano Appena vedo un nemico Che cazzo Ti spari Oh mio dio Oh mio dio L'ho visto L'ho vista E' morta No no Ragazzi Ragazzi Allora Non accade nulla Ok Ok posso disgravitazionalizzare Una zona Non ho capito bene Come funziona Sta cosa A quanto pare Non ci ho capito Come niente Neste gioco Però Insomma Diciamo Fondamentalmente Se tu ci devi avversari Vinci Perché è un deathmatch Ma che cosa è successo Cioè se ti avvicini a uno Che è fulminato Ti fulmini anche tu Bene Challenge accetta Da my friend Io amo le versioni beta Perché se non ci sono bug Ho fatto un assist Yeah Ho killato uno Che stava Camperato Skills Pro ho fatto assist, non si sa chi l'ha ucciso però vabbè stavo facendo quasi una doppia, non si sa come comunque raga, faccio proprio schifo io a gioca volevo fare gamer ma è meglio se faccio qualcos'altro c'è oppure mi devo allenare molto così proprio non ho amici c'è qualcosa mi stai dicendo ah c'è scritto il mio amico UAB youtuber famosissimo famo internazionale e penso che sta registrando per il tuo canale quindi poi passate sul tuo canale a vedere il tuo video e prestissimo vedete se facciamo un video insieme però non credo perché ha messo il gioco, ho già mi rotto il pazzo vabbè però ricordiamo che è una beta è una beta, è baffresa così com'è, porco mannaggia agli archi vabbè 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 così non va bene dopo posso uccidere questa beta abbiamo perso benissimo ragazzi ci vediamo al prossimo video questo era questo era Call of Duty Black Ops 3 versione beta e per dimostrarvi quanto io sia forte e e niente ci vediamo al prossimo video bello a tutti andiamo al prossimo video qui come vai si va al video inglese? come